Buonasera a tutti, un saluto affettuoso. Quando ho letto l'invito del Rettore ho detto qui non posso disobbedire perché il tema è talmente bello e ci riguarda. Credo che tutti quanti siamo qui stasera, siamo innamorati di Roma, amiamo questa città e quello che facciamo per poter continuare a renderla sempre più bella. Quindi sono veramente contento del lavoro che Monsignor Samuele Sangalli ha portato avanti con questa pubblicazione, con questo lavoro così impegnativo. Quando ho fatto un po' di riflessione ho detto cosa posso portare come contributo. E mi è venuto così questa piccola riflessione che vorrei aggiungere per trovare un po' una chiave non tanto di semplificazione quanto di unitarietà per quella che rimane una realtà complessa. Perché Roma è una realtà complessa. Qualcuno ha usato il termine stratificazione per dare conto della peculiarità della nostra città rispetto ad altri assetti urbani. E si tratta di una prospettiva che riesce a cogliere nella complessità dei fenomeni che tutti insieme edificano Roma una linea di continuità e di compresenza tra quegli stessi fenomeni, tarola molto distanti nel tempo. Allora cercherò brevemente, se riesco, di collocarmi entro la prospettiva che più mi interpella e cioè la presenza romana delle tre principali comunità religiose monoteistiche cristiani, ebrei e musulmani. La relazione che queste religioni istituiscono con il fenomeno dell'urbanesimo, o meglio con l'idea stessa di città, mi sembra offrire quella unitarietà di cui abbiamo bisogno per progettare il futuro di Roma, senza paure e senza soccombere a quei processi che lasciati senza governo, senza interpretazione, potrebbero produrre solo frantumazione, allarme sociale, con il loro corollario di ingovernabilità, di violenza, di disumanizzazione. È una relazione che per un verso riconosce il carattere di stabilità e di durata proprio di una città, dall'altro ne considera la relatività e la provvisorietà rispetto al destino dell'uomo. Non sarà un caso che tutte e tre queste religioni condividano un orizzonte escatologico della storia umana e dunque la necessità di un certo distacco dalla quotidianità per poter avere esperienza di un incontro con il mistero, con l'essere invisibile, trascendente. E' nella certezza che non solo egli possa fecondare e dare significato all'esistenza quotidiana, ma anche costituirne il compimento nell'aldilà del tempo e dello spazio. La città non è solo il luogo di una dimora definitiva, di una dimora pacifica, ma la città è l'occasione per iniziare un cammino che porti altrove, a ciò che la città soltanto simbolizza, senza poter garantire né compiere definitivamente. Ecco, queste considerazioni intrecciate tra loro definiscono una condizione di pellegrinaggio proprio della condizione umana. non un vagabondare lasciato al caso o alle circostanze, ma neppure una vita stanziale, una vita definitiva, rinchiusa in una città. Piuttosto la consapevolezza di una tensione tra ciò che qui continua ad essere segnato dalla precarietà, dalla provvisorietà, dalla complessità, è una realtà definitiva che la vita sulla terra in qualche misura anticipa e fa pregustare. Osservo che le tre comunità a cui stiamo pensando non condividono solo la dottrina teologica del monoteismo, ma anche la considerazione che tutte e tre hanno della santità di una precisa città, che è Gerusalemme. Tre pietre costituiscono l'architrave della costruzione spirituale delle tre fedi. C'è la pietra del Tempio di Sion. Dio sta in essa, non potrà vacillare. Fremettero le nazioni, i regni si scossero, Dio tuonò, si sgretolò la terra. Ecco la pietra del Tempio di Sion. C'è poi la pietra ribaltata del sepolcro di Cristo, segno di vittoria sulla morte. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. E poi c'è infine la pietra della cupola della roccia, coperta e inglobata dall'attuale moschea di Omar, la sede del sacrificio di Sacco e dell'ascensione al cielo del profeta dell'Islam, Maometto. Così che Gerusalemme diventa come una chiave di comprensione del mistero che la città è a se stessa, cioè il paradigma entro il quale declinare tutti gli sforzi di costruzione di una città che non sia chiusa all'offerta di vita e di alleanza che Dio fa di se stesso all'essere umano. Quest'offerta mi sembra il contributo decisivo che le religioni possono dare a Roma. Nel corso dei lavori del Consiglio presbiterale di questi ultimi cinque anni, cioè le riunioni che noi facciamo con un gruppo di sacerdoti mensilmente qui a Roma, ha molto riflettuto sulla necessità di progettare il proprio agire pastorale in rapporto a questa concreta città, lasciandosi illuminare tra l'altro dalle parole della lettera agli ebrei che interpretano la morte di Cristo con la liturgia del Tempio di Gerusalemme. È il capitolo 13 della lettera agli ebrei. Infatti i corpi degli animali, il cui sangue viene portato nel santuario dal sommo sacerdote per l'espiazione, vengono bruciati fuori dall'accampamento, perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, subì la passione fuori della porta della città. Usciamo dunque verso di Lui fuori dell'accampamento, portando il suo disonore. Non abbiamo qua giù una città stabile, ma andiamo in cerca di quella futura. Quindi esiste una città futura verso la quale camminare, pellegrinare, rispetto alla quale qualunque agglomerato umano rimane pur sempre, possiamo dirlo, un accampamento provvisorio. Nell'Antico Testamento ebraico, il termine fondamentale che indica la città è ir, e propriamente indica un insediamento umano chiuso, spesso con alte mura, porte e sbarre. La città si differenzia da altri insediamenti in forza della sua maggiore difesa, dovuta alle sue mura, ai suoi sistemi di sicurezza. Roma stessa, lo sappiamo benissimo, nel suo centro storico, è tuttora circondata da mura di questo tipo, innalzate per questo scopo, per questa difesa. Ma, e questo è il punto, il bene e la salvezza non coincidono con la sicurezza. Credo che sia importante, no? Sottolinearlo. Non li possono garantire né i muri, né alcun'altra costruzione umana. La scrittura e la tradizione religiosa, lì descritta, attestano questo dato. L'uomo non può sperare che una cosa fatta dalle sue mani si possa sostituire a quello che solo Dio può donare. Per questo la Bibbia esprime una certa diffidenza verso la città intesa così, autosufficiente, sicura di sé, sicura delle proprie forze. E' un tale giudizio evidente fin dal quarto capitolo della Genesi, dove si racconta che Caino, dopo il fratistigio, si allontanò dal Signore e abitò nel paese di Noddo, a oriente di Eden. Poi divenne costruttore di una città. Quindi dalla Genesi viene rivelata una correlazione tra solitudine, paura di morire o di essere uccisi, costruzione della città e delle mura. Quando questi elementi non si aprono all'invocazione, all'alleanza di Dio, necessariamente devono affidare a un qualche idolo, a un qualche altro potere umano, il compito di creare una vita rassicurante, una vita pacifica. Quando l'uomo ha il problema a se stesso, la soluzione non può essere ancora e di nuovo l'uomo o quello che l'uomo può costruirsi da sé. Perché la città costruita come un idolo che non può salvare non è altro che la proiezione di sé su quel che si fa, una visione di sé trasferita su qualcosa da ottenere o da realizzare a tutti i costi, fosse anche l'eliminazione di Dio o del prossimo. Allora nasce da questa continua proiezione, mai sazia e spesso rabbiosa, l'impossibilità di governare, direbbe Santa Caterina da Siena, di governare la città che è la nostra anima e la città prestata, cioè le istituzioni che regolano la vita sociale. Tutti gli idoli sarebbero in sé stessa realtà buona, create per essere alleate della vita dell'uomo. Quando gli idoli vengono investiti del compito di definirci e di darci la vita, allora, lo sappiamo bene, rendono schiavi. Così può succedere anche per la città prestata e le sue istituzioni più o meno stratificate, volute per favorire un'ordinata convivenza tra diversi, se idolatrate, se chiusa la relazione con Dio, possono diventare mondi chiusi, autoreferenziali, che promettendo di risolvere i problemi della vita, in realtà la risucchiano la vita. La città di Babele e la confusione delle lingue, conseguenza del progetto assurdo di voler costruire una torre che raggiunga il cielo, ecco questa rimane l'icona di una città che non solo manca il suo scopo, ma distrugge se stessa e crea dispersione, crea fughe altrove. Proprio da Babele, però, se ne partì Terak, che fu il padre di Abramo, il primo dei credenti, il padre nella fede delle tre religioni monoteiste. Lo stesso Abramo, chiamato da Dio, dovette partire dalla sua terra e dalla casa di suo padre verso un luogo che non conosceva, ma che costituiva il compimento non spropositato del suo desiderio. Egli aspettava, infatti, la città dalle salde fondamenta il cui architetto e costruttore è Dio stesso. Cito ancora qui di Lui come tutti i patriarchi, la lettera agli ebrei scrive «Nella fede morirono tutti costoro, pur non avendo conseguito i beni promessi, ma avendoli solo veduti e salutati di lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sopra la terra. Chi dice così, infatti, dimostra di essere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto possibilità di ritornarvi. Ora, invece, essi aspirano a una migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non disdegna di chiamarsi il loro Dio. Ha preparato, infatti, per loro una città». E la conclusione la troviamo poi nell'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse. E questa città lì è mostrata, è molto bella questa immagine, la ricordo, la città santa Gerusalemme che scendeva dal cielo da Dio risplendente della gloria di Dio ad Orna come una sposa pronta per il suo sposo. E pochi capitoli prima aveva fatto la sua apparizione Babele, Babilonia, presentata come la grande prostituta, come la città che si è unita non al suo Signore, ma ad altri amanti, gli idoli, ai quali si è concessa senza che la sposassero. Ecco, questa è la buona notizia che fa da fondamento alla speranza anche per la nostra città di Roma. Dio si sta preparando una città con la quale vuole vivere in comunione di vita e in comunione di amore. Si tratta di acconsentire a questo disegno con la stessa libertà di una sposa la quale il giorno delle nozze acconsente al suo sposo e lo sceglie per sempre. La Gerusalemme che scende dal cielo è ancora una città ma è trasfigurata di bellezza. Le sue porte sono aperte e non chiuse. Le mura sono adorne di ogni specie di pietre preziose. Il fiume che vi scorre è lo stesso dell'Eden è primordiale emana uno splendore di oro simile a terzo cristallo la piazza è di oro puro. Non è il caso qui di decodificare tutte le cifre del linguaggio apocalittico sarebbe una cosa un lavoro interessante ma dobbiamo ricordare che queste immagini vogliono tradurre in termini umani l'indicibile realtà della gloria di Dio presente nella città non più costruita da mano d'uomo ma discesa dal cielo quel cielo che la torre di Babele tentò inutilmente di raggiungere. Quindi la città futura la gloria di Dio il suo farsi sentire nella vita degli uomini ha bisogno di quello che l'uomo è e fa per manifestarsi. Il disegno di Dio sulla città non è il suo annientamento il disegno di Dio sulla città è la sua pienezza la quale non può venire che da Dio stesso da un mistero di amore e di grazia ed entrando nella vita degli uomini Dio la trasforma senza annullarla felice di recuperare con la misericordia e con la verità quello che la paura di morire e il delirio di farsi come Dio avevano distrutto. Ecco occorre sposare questo disegno di Dio a consentirvi liberamente accettando di ordinare la città propria come quella sposa Gerusalemme adorna per il suo sposo. Ecco questo è il mio sogno su Roma quindi ve l'ho trasmesso così semplicemente e grazie per questa occasione. Grazie. Grazie.